Tira Ehi, guarda qui Dai, prendi, lo ti piace Tira Tira, tira, qua, 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 tira, qua, bella Amore, amore, con queste ciuffe Quando è stato il momento della separazione L'affidamento del figlio Alberto E quindi il figlio è stato molto legato Lui era molto preoccupato di lasciarlo in Sicilia Perché all'epoca di Sicilia E quindi